buongiorno a tutti questo video è un video tutorial per vedere come inserire la domanda per la gradatoria di circolo ed istituto del personale ATA terza fascia si entra nel sito del ministero dell'istruzione il cui indirizzo è www.miur.gov.it una volta entrati in questo sito basta andare in basso a destra su questa icona gradatoria di circolo ed istituto del personale ATA cliccarci sopra ed entrare nell'area creata appositamente per l'inserimento dell'istanza della domanda per le gradatorie di circolo ed istituto del personale ATA ai sensi del decreto ministeriale numero 50 del 3 marzo 2021 da quest'anno ricordiamo che le procedure sono digitalizzate e si fa tutto online sul sistema informativo del ministero per accedere all'istanza o si clicca qua in alto a destra accedi all'istanza oppure scorrendo verso il basso si fa accedi da questo tasto comunque facendo clic su accedi si entra proprio nell'area delle gradatorie di istituto terza fascia personale ATA del triennio 21-23 dove abbiamo proprio da leggere questi e questa informativa sui dati personali e sulla privacy e sulla responsabilità delle dichiarazioni che si vanno a fare sulla domanda stessa scendendo e leggendo tutto questo regolamento si fa tranquillamente accedi nuovamente e si va in un'altra area si entra prima nell'area dove si utilizzerà la login cioè la username e la password per accedere se si è già registrati al sito del ministero per le stanze online oppure con lo speed per entrare appunto nell'area della presentazione della domanda ricordiamo che chi non è ancora registrato l'unico modo per entrare quella di farsi lo speed ed entrare attraverso speed una volta entrati si entra in quest'area dove si va a scegliere la provincia si seleziona la provincia da questo elenco a cascata per esempio io vado a scegliere la provincia di reggio calabria cliccando qui inserisco la provincia e devo ricordare anche che nel caso in cui io sono inserito nelle gradatorie provinciali o alle gradatori o negli elenchi esaurimento di altra provincia devo dichiarare che vengo cancellato nelle gradatorie provinciali permanenti o negli elenchi provinciali ad esaurimento e ho alle gradatorie provinciali ad esaurimento vengo cancellato perché ho scelto altra provincia per esempio se sono inserito nelle gradatorie provinciali di torino ma voglio richiedere reggio calabria devo fare questa dichiarazione che comunque va fatta in ogni modo proprio per poter andare avanti e fare andare avanti la domanda e una volta scelta la provincia ricordatevi anche di scegliere una scuola di riferimento cliccando su questo tasto si va proprio a ricercare una scuola di un comune della provincia scelta per esempio andiamo nel mio caso a scegliere una scuola di reggio calabria per esempio il liceo scientifico leonardo da vinci di reggio calabria andiamo a cercarla vediamo se la cerca eccola qui l'abbiamo trovata la inseriamo facendo clic sul tasto selezione in basso e a questo punto la domanda può e si può andare avanti perché venga inserita speriamo che questo breve tutorial vi sia stato utile per capire come si inserirà la domanda di gradatoria di terza fascia che ricordiamo può essere presentata dal oggi 22 di marzo fino al 22 di aprile seguiranno a questo video tutorial altri tutorial e dunque seguiteci nei nostri canali social in particolar modo su youtube della tecnica della scuola arrivederci grazie a tutti